l'olio cosa faremo oggi ragazzi proveremo a fare smr mentre mangio un menschino così vi faccio vedere voglia di venire qui vicino qua ho la mia salita acquetta quindi il mio bicchiere come la mia mentre qua ce ne ho da l'arancino è venuto da l'arancino è venuto da me 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 mi ritiamo adesso adesso non so quanti cavolo di cose di me che tengono questi figli scrivermi sotto nei commenti se anche voi piace l'arancio io lo amo guardate il centro è qualcosa di meraviglioso è verità no perché c'è il blocchetto in via vetro adesso mi mangio per fortuna io sono quasi di quelle sensibili io non ho i denti senti sono una disgraziadina non ho i denti senti non ho i denti senti non ho i denti senti Ketchup 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 L'abbè! No! Disci da che sono pienissimo Sì il nostro corso gratuito C'è il mio cuore che mi osserva dalle finestre Che vuoi? Che sto mangiando? C'è la vacca È la prima volta che non c'è la vacca Non dirò, non è la prima volta però C'è la vacca C'è definitività che non c'è più che non c'è? etwas assegnato C'è sempre quello Come are you, a me ova C'è un big Fish no perchè quel crescio c'ha un sacco di fondolans just in a breath aiuta c'è un discorso ciao